Sono 564 gli interventi effettuati dal 6 dicembre al 6 gennaio dagli agenti del Servizio Sicurezza e Soccorso della Questura di Sondrio sulle piste dei cinque principali comprensori sciistici di Valtellina e Valchiavenna, Livigno, Bormio, Aprica, Chiese, Valmalenco e Madesimo. Di questi 427 sono dovuti a cause accidentali, cioè cadute in pista, 106 a scontri tra persone, 24 a malori e 7 a scontri con ostacoli fissi, siano alberi o parti degli impianti stessi. Un trend in leggero aumento rispetto all'andamento dello scorso anno che ha visto particolarmente impegnati 17 agenti attivi sulle piste da sci dal mattino alle 9 fino all'imbrunire alle 17. Presente in numero mai inferiore a 3 per turno, con la dotazione del caso, motoslitte e taboga, è in grado di prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale di Areu 118. 37 in totale le violazioni amministrative accertate con adozione delle conseguenti sanzioni, combinate in particolar modo sul comprensorio di Chiese in Valmalenco, 12, e di Madesimo, 11. Schiare a quest'ultima su cui si è prodotto il numero maggiore di scontri in pista fra persone. Ma quali motivi alla base dei quotidiani incidenti sulle nostre piste? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Mastroianni, dirigente della squadra volante e dell'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico della Questura di Sondrio. Alcuni sciatori non si attengono alle comuni regole dello sciare secondo prudenza, diciamo. Si tratta sì di uno sport, però bisogna rendersi conto che è uno sport, non dico pericoloso, che però nasconda alcune insidie. Cosa dicono queste regole? Bisogna avere la preparazione fisica adeguata, bisogna affrontare le piste a seconda del proprio grado di preparazione. Per quanto riguarda le norme scritte, bisogna evitare i fuori pista e bisogna tenersi alle regole classiche, quale ad esempio il rispetto della segnaletica, che devo dire è fatta alquanto bene. Occorre indossare abbigliamento particolare quando si va in pista? Assolutamente sì. È obbligatorio il caschetto protettivo fino ai 14 anni, è altamente consigliato anche in età adulta. E ahimè, per quanto riguarda gli adulti, l'imprudenza è continua. Inoltre, per i snowboarder, fondamentali sono i parapolsi e il paraschiena. Trasversali rispetto all'età degli infortunati, gli incidenti in pista, capaci di coinvolgere sia bambini sia adulti. Per quanto riguarda i bambini, dalla questura giunge l'invito ad affidarli ai maestri di sci nella fase iniziale, mentre con riguardo agli adulti la raccomandazione è quella di mantenersi in allenamento e non sfidare la montagna né in pista né fuori pista senza l'adeguato allenamento. Molti infortuni, infatti, coinvolgono oltre 50 anni che tornano a sciare dopo talvolta anni di fermo.